Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori telecamere sorveglianza. Vi invito a guardare la descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 delle migliori telecamere sorveglianza. Quindi cominciamo con la telecamera di sorveglianza TP-Link. Iniziamo questa top con una telecamera di sorveglianza economica. Questo modello ha un prezzo di circa 30 euro. Si tratta di una telecamera di sorveglianza specificamente progettata per proteggere la vostra casa all'interno. Ha tutte le caratteristiche per proteggervi nel miglior modo possibile. Infatti la telecamera ha un campo orizzontale di 360 gradi e un campo verticale di 114 gradi per filmare il più ampiamente possibile. Inoltre è di ottima qualità con una fotocamera di 1080p. Inoltre ha un modalità di visione notturna e di rilevamento umano. C'è anche un microfono incorporato. Naturalmente avete anche un allarme luminoso e sonoro. Infine è possibile controllare questo dispositivo con Alexa e Google Assistant. Poi troviamo la telecamera ESVIS C6N. Anche in questo caso si tratta di una telecamera di sorveglianza interna economica che è attualmente in vendita per circa 30 euro. Anche in questo caso abbiamo una telecamera di sorveglianza di alta qualità con qualità di HD. Naturalmente la telecamera ha anche un campo visivo di 360 gradi per coprire il più possibile. Naturalmente questa telecamera di sorveglianza interna ha anche una modalità di visione notturna per proteggerti in tutte le situazioni. C'è anche un rilevamento del movimento per assicurarsi di essere protetti in caso di intrusione. Funziona anche con Alexa e Google Assistant. Per tenerti connesso e nel giro questa telecamera di sorveglianza è abilitata al wifi. Che si tratti di proteggere la vostra casa o le persone fragili che potrebbero essere sole nella vostra casa, questa telecamera è l'ideale. E per finire ecco la telecamera Blink Outdoor. Questa volta passiamo a una telecamera di sorveglianza che è stata progettata per l'uso esterno. Questa telecamera ha un grande qualità che molte telecamere di sorveglianza non hanno, che è l'energia solare. Infatti questa telecamera di sorveglianza viene consegnata con un pannello solare quindi non dovrete cambiare la batteria o collegarla. inoltre potete essere sicuri che la vostra macchina fotografica sarà sempre lì a proteggervi. Naturalmente hai tutto ciò di cui hai bisogno su questa telecamera come il rilevamento del movimento, una telecamera HD, puoi ricevere sul tuo telefono i movimenti che la tua telecamera ha rilevato e tutto molto facile da impostare con l'app. Naturalmente questa telecamera di sorveglianza esterna può anche essere utilizzata con Alexa. Ecco grazie per aver seguito questa top 3 spero che ti sia stata utile. Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo il link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.